La scottone ha pensato ad una linea bambino con un servizio esclusivo che garantisce un prodotto fresco giornaliero. La scottone a Cava dei Tirreni, Viale Marconi, numero 13. Vi aspettiamo. Anche Cava dei Tirreni sarà rappresentata a livello nazionale, benché solo giovanile, nel nuoto. La metelliana Ludovica Monetta, tesserata con la società Acqua Chiara, si è infatti qualificata alle finali dei campionati italiani assoluti che si svolgeranno a Riccione, in provincia di Rimini, dal 4 all'8 di aprile. Monetta è nata nel 2001 ed è al suo secondo anno nella categoria Juniores. Arriverà a questa competizione dopo aver fatto registrare due ottimi risultati nel corso del Criteria di Riccione appena disputato, nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 metri delfino. Alla Kermess prenderanno parte tutti i big del nuoto azzurro, da Federica Pellegrini a Gregorio Paltrenieri. Complimenti a Ludovica con l'augurio che si goda appieno questo fantastico momento di crescita sportiva e umana, ha spiegato il patrono dell'Acqua Chiara, Franco Porzio. Il settore di nuoto agonistico dell'Acqua Chiara è in crescita esponenziale e i numeri ne sono la testimonianza. Il mio ringraziamento, prosegue Porzio, va a Valerio Fusco, direttore tecnico dell'intero settore che, grazie alla sua grande esperienza internazionale, segue costantemente il lavoro di tecnici e atleti. Un grazie anche a tutti gli allenatori, agli educatori, vere e proprie figure di riferimento per i nostri ragazzi. «È un'emozione indescrivibile», ha raccontato la stessa Monetta. «Il solo pensare di gareggiare con tutti i grandi del nuoto italiano mi fa venire i brividi. Cercherò di ben figurare in questa manifestazione». «È un'emozione indescrivibile»